Diamo un'occhiata alle previsioni, ai sondaggi che erano stati realizzati proprio per le elezioni regionali del Piemonte. Il tema dei sondaggi è stato molto dibattuto in questi giorni, anche oggi, dopo il sostanziale flop delle previsioni sulle elezioni europee che davano una corsa ravvicinata a due tra Movimento 5 Stelle e PD e invece si è visto che il risultato è stato nettamente a favore del PD addirittura col doppio dei voti del PD rispetto al Movimento di Grillo ed è questo un dato che nessuno assolutamente aveva previsto. Per le regionali i sondaggi sono stati molto di meno e poi la legge impedisce la loro pubblicazione negli ultimi 15 giorni quindi noi ci rifacciamo al sondaggio pubblicato dal quotidiano La Repubblica sulle pagine torinesi realizzato da IPR Marketing appunto per il gruppo La Repubblica L'Espresso e bisogna dire che questo sondaggio non è andato molto lontano dal reale, dalla verità, dai risultati definitivi. C'è stato soltanto il fatto di una sovrastima nei confronti del Movimento 5 Stelle anche in questo caso ma non così esagerata come sulle europee. Vediamo un attimo il dettaglio. Il PD che attualmente diciamo si attesta sul 36% era stimato in una forchetta tra il 26% e il 31% quindi sicuramente è stato sottostimato. La lista Chiamparino per il Piemonte in una forchetta tra il 4,5% e il 6,5% attualmente è attorno al 4,5% quindi è stata azzeccata la previsione. Così anche quella dei moderati che sono sul 2,4% e il sondaggio di IPR li dava tra il 2,7% e il 4,7%. La scelta civica che non dovrebbe realizzare seggi era stimata tra il 2 e il 4% invece in realtà è attorno all'1,5% e quindi è leggermente più bassa. Azzeccata invece la previsione per SEL che è attorno al 2% ed era stimata da 1 a 3%. La coalizione complessivamente per Chiamparino era stimata tra il 42 e il 46% e in realtà è attorno al 47% e quindi tutto sommato l'errore statistico è limitato. Forza Italia. Forza Italia era stimata tra il 13 e il 17% una forchetta abbastanza ampia però in cui si colloca esattamente il risultato attuale 15,6%. La Lega Nord era stimata tra il 5 e il 7% e in realtà in questo momento è attorno al 7,5%. Le altre liste minori non hanno grandissimo rilievo. Nel complesso la coalizione per Picchetto era stimata in una forchetta di 4 punti tra 22,8% e 26,8% e in questo momento al 25% quindi ha centrato esattamente la forchetta. Movimento 5 Stelle. Era stimato tra il 21,5% e il 25,5% e in questo momento ha il 20%. Il nuovo centro-destra era stimato tra 2,5% e 4,5% e in questo momento ha il 2,5% quindi è sulla parte bassa della forchetta. Fratelli d'Italia era stimato tra il 2,5% e il 4,5% e in questo momento ha il 3,7%. L'altro Piemonte a sinistra era stimato tra 0,1% e in questo momento ha il 1%. Quindi nel complesso tranne un po' la sottostima del PD e la sovrastima del Movimento 5 Stelle le previsioni di PR e marketing si sono confermate.